La Quadrifoglio ritira le 100 lettere di licenziamento inviate ai lavoratori. Il Comune di Rieti, da parte sua, dovrà però saldare il prima possibile parte del debito accumulato nel tempo, almeno un milione. L'amministrazione comunale di Rieti prende atto della volontà espressa da parte della cooperativa Quadrifoglio di annullare la procedura di licenziamento dei lavoratori avviata nelle scorse settimane. Allo stesso tempo, così come auspicato dalla stessa cooperativa, si avvierà prontamente il confronto per definire sia il quadro economico che la prospettiva di gestione dei servizi. Il nostro intento, ha sottolineato il Sindaco Petrangeli, è quello di riconoscere alla cooperativa la complessiva copertura delle spettanze per il lavoro svolto nelle modalità previste.